Non si danno pace i familiari del biologo marino e velista salernitano Rocco Accocella, scomparso durante una traversata in solitaria con il suo trimarano dal 23 giugno scorso. Era partito dalle isole di San Marten e le Antille francesi. Le ricerche per il momento non hanno dato alcun risultato, non ci sarebbe traccia dello skipper 32enne. Intanto i familiari hanno chiesto l'aiuto del velista Giovanni Soldini e l'intervento di una piccola compagnia aerea che possa facilitare le ricerche, proprio il fatto che non siano stati trovati i resti dell'imbarcazione fa sperare la famiglia Coccella, che ha richiesto alla Farnesina di battere altre piste, stendendo le ricerche sulla terraferma, ipotizzando anche un possibile rapimento a scopo di riscatto. Disperato l'appello rilasciato dalla sorella del 32enne ad Ascanews. Chiediamo a chiunque possa avere contatti in quelle zone di aiutarci nelle ricerche e nel diffondere le informazioni. Si tratta infatti di un territorio molto vasto, con foreste molto fitte e poco abitato o abitato da popolazioni indigene difficili da contattare. I nostri esperti di navigazione stanno lavorando sui dati del segnale di soccorso, rimasto attivo per 19 ore. Grazie. 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 Grazie.